Carpegna tra autonomia, arte, tradizioni, gastronomia. E questo è il titolo del programma da settimana da capitale al quadrato del comune di Carpegna all'interno del progetto 50x50 di Pesaro 2024, che rivedrà protagonisti dal 12 al 16 giugno. Abbiamo un programma molto ricco, incentrato non solo sui nostri prodotti tipici, come il prosciutto di Carpegna d'Occa che abbiamo portato qui, il crostolo di Carpegna, un prodotto che è stato riscoperto, che utilizza la ricotta invece dello strutto, un prodotto povero ma molto leggero e di grande voga, molto richiesto e molto apprezzato. In più presentiamo i nostri monumenti come il Palazzo dei Principi di Carpegna con una visita guidata particolare, con la pieve di Carpegna, la pieve romanica del 1180 nei pressi di Carpegna a un paio di chilometri. Ma durante la settimana, durante i cinque giorni vogliamo anche valorizzare l'aspetto musicale l'entroterra a tanti musicisti bravi. Abbiamo dei gruppi che saranno vicino nei pressi dei due aperitivi Cosa C'è DOP con i prodotti tipici dell'entroterra, con alcuni gruppi che si alterneranno. In più, dedicato tutto la settimana con tante bellissime escursioni, noi siamo importanti per il paesaggio e la natura. Il titolo della nostra settimana è Carpegna tra arte, natura e gastronomia e sport. Quindi avremo delle escursioni in trekking organizzate dall'Inteparco Sassi-Sumoni-Simoncello. Noi siamo nel cuore dell'Inteparco, quindi siamo proprio nel tema di peso al capitale della cultura, la natura della cultura. E poi una bellissima escursione in bike, in mountain bike, con la salita a Pantane, è un altro elemento di fondo di Carpegna e dell'Alto Montefeltro. Ci porta migliaia di turisti a fare la salita a Pantane. Laboratori per bambini e poi due eventi importanti ai quali teniamo molto. Parliamo di peso, parliamo dell'entroterra, faremo una serata a cura di Lucia Ferrati, della bravissima Lucia Ferrati, che è un'amica di Carpegna e del Montefeltro, con delle letture dell'Associazione Le Voci dei Libri, con degli interventi musicali e una lezione magistrale di un'esperta di Zandonai. E secondo momento molto importante, presenteremo finalmente, dopo anni di lavoro, il grande libro, il Palazzo dei Principi di Carpegna, del professor Simone Pace. Un libro attesissimo, ma anche una monografia su questo palazzo così imponente, così importante, dove realizziamo tante iniziative culturali. Domenica, pomeriggio, clou della settimana, è la nostra festa del patrono, Sant'Antonio di Padova, quindi è una festa molto importante, con una processione, ma anche con un momento culturale, dove avrà raccontato chi è stato Sant'Antonio di Padova, un santo amatissimo, che è venuto a predicare a Carpegna, assieme a San Francesco. È un pomeriggio festoso, con arcieri, giocoglieri, con la processione e con anche questo momento culturale, per ricordare questo santo molto importante, che è molto amato da noi e anche da tutti i bambini. Il programma 50 per 50, che prevede che ogni comune della provincia sia capitale italiana per una settimana, assieme a Pesaro, ha due effetti. Uno, di visibilità, di visibilità, di attenzione, quel faro, diciamo, in più che reclamava anche Carpegna oggi, per far conoscere la bellezza a livello nazionale e internazionale, attraverso la promozione che la capitale italiana si porta dietro, di luoghi, di storie, pensiamo solo al Palazzo dei Principi di Carpegna, o alla salita del Carpegna, resa celebre da Pantani, ma soprattutto anche quella di creare un turismo interno, un turismo in cui gli abitanti della provincia si riappropriano della conoscenza dei punti di interesse più importanti della nostra provincia e soprattutto iniziano a visitarla, visitarla, incontrarsi, attraverso la scusa, il pretesto, insomma, della settimana capitale, conoscersi tra coste e aree interne, conoscersi tra municipalità, tra vallate, sembra una cosa scontata, una volta era molto più praticato questo, nonostante ci fosse meno comunicazione e anche vie di comunicazione magari più scomode, oggi invece siamo portati a abbastarci un po' ognuno nelle proprie città e invece il 50x50 vuole innanzitutto, anche dando incontro a una bellissima programmazione che è quella messa in campo da Carpegna, creare veramente una conoscenza del territorio da parte degli abitanti della provincia.